Segnali positivi per la SACRA, la società che gestisce lo scalo aeroportuale di Lamezia Terme. L'ENAC ha trasmesso i dati del report 2017, stato di attuazione degli investimenti aeroportuali in Italia. Dai numeri è emerso lo sforzo economico della società di gestione per lo sviluppo infrastrutturale, che ha consentito di aumentare i volumi di traffico dei passeggeri dell'aeroporto. Nel 2015 si è raggiunta quota di oltre 2 milioni e 300 e nel 2016 i numeri hanno superato i 2 milioni e mezzo con un incremento del 7,7%. Per il capitolo investimenti ammonta 63 milioni e 921 mila euro la spesa prevista per il treennio 2016-2019 destinata allo sviluppo infrastrutturale. Di questo ammontare è di 32 milioni e 471 mila euro la quota di finanziamento pubblico. Intanto nel 2016 il totale corrisposto per diversi interventi di riqualifica è stato di 2 milioni e 390 mila euro in autofinanziamento. Soddisfatto il presidente di SACAL, Massimo Colosimo, che per i prossimi tre anni ha garantito che la fetta più importante di investimenti sarà impegnata per la costruzione della nuova aerostazione. La SACAL parteciperà con un investimento del 67% rispetto al 33% di finanziamento pubblico. Un impegno importante in termini economici e di gestione. Da qui l'invito di Massimo Colosimo per trattenere Ryanair alla mezzia occorre un'adeguata sinergia. Il vettore low cost è sostenuto solo dalla società. Rosaria Giovannone per la Cineus 24